Ben trovati, grazie all'On. Mara Carfagna, Presidente di Azione, per aver accettato il nostro invito per questo speciale politica. On. Carfagna, io comincerei dalla politica estera, anche se in campagna parlare di politica estera magari può sonare un po', però questa visita di Zelensky in effetti ha testimoniato una cosa, e cioè che il Presidente Mattarella, che già era su quella sua linea strategica, che poi era la linea di Draghi rispetto all'Ucraina, ha mantenuto fermo, anzi addirittura è stato anche più esplicito. Il Presidente del Consiglio, Meloni, ha fatto la stessa cosa, cioè senza se e senza mai sostegno all'Ucraina, nelle opposizioni ci sono ancora i sei, ma per la verità anche parecchi. La posizione di Azione invece, e quindi in continuità col governo Draghi, qual è attualmente? Alla luce anche delle cose che stanno accadendo. Intanto un saluto a lei direttore, un saluto a chi ci segue, grazie a lei per questo invito e per questa opportunità. La nostra posizione è molto chiara ed è senza alcuna ambività, il nostro sostegno alla resistenza ucraina contro l'invasione russa è un sostegno convinto, e dipende dalla consapevolezza che soltanto l'Europa e soltanto l'Occidente possono costringere la Russia a sedersi a un tavolo per avviare serie trattative che partano naturalmente da un ritiro delle truppe russe. Senza questo presupposto non ci sarebbe alcuna pace, ma ci sarebbe semplicemente una resa incondizionata dell'Ucraina. Non c'è pace senza libertà e non c'è pace senza il riconoscimento dei diritti e della volontà degli ucraini. Sì, dopo un bel po' di mesi, per la verità parliamo di 7-8 mesi, proprio con la visita di Zelensky si è tornato a parlare di Draghi, cioè qualcuno si è ricordato che c'era una persona, io direi una grande personalità di nome Draghi. La domanda è questa, la prendo anche con una provocazione, gliene farò più di una di provocazioni. La domanda è questa, ma lei non ritiene che la politica, una gran parte della politica italiana sia un tantino masochista? Avevamo un leader, oltretutto è stato pregato per guidare il governo di grande prestigio internazionale, grandi competenze e lo abbiamo costretto ad andare via. C'è una punta di masochismo o no nella politica? Guardi, io considero il licenziamento anticipato del Presidente Draghi più che un atto di masochismo, un atto antipatriottico. Se noi avessimo rispettato la scadenza naturale della legislatura, a quest'ora avremmo già incassato la terza rata del piano nazionale di ripresa e resilienza, avremmo impostato tutte le azioni necessarie per ottenere la quarta rata. Saremmo andati ad elezioni in primavera, molto probabilmente avrebbe vinto la destra, ma nel frattempo avremmo avviato tutte quelle azioni che sono necessarie per tutelare gli interessi italiani e anche per mettere al sicuro lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Avevo una domanda già pronta per lei, che riguarda il gergo politico, però vorrei collegarmi a quello che diceva lei. PNRR, lei si riferiva al PNRR, siamo un po' in ritardo, ma secondo l'attuale governo è stato il governo precedente, il governo Draghi, quello di cui lei ha fatto parte come Ministro per il Sud, ad essere troppo lento, troppo miope, per cui oggi si registrano tanti ritardi. Che cosa replica direttamente a Fitto se vuole? No, allora io non so se Fitto abbia detto questo, non credo perché è troppo avveduto e mi sembra anche, come dire, competente e preparato per dire una sciocchezza megagalattica come questa, perché chi dice questo... Lei sa che si può dire in tanti modi una cosa, no? Allora, Fitto lo ha detto, la sostanza era questa. Chi dice questo non conosce il PNRR o finge di non conoscerlo. Se noi fossimo stati in ritardo non avremmo ottenuto l'anticipo e non avremmo ottenuto le prime due rate del piano nazionale di ripresa e resilienza, perché il piano nazionale di ripresa e resilienza funziona così. Ci sono degli obiettivi, dei traguardi e ci sono soprattutto dei tempi e delle scadenze da rispettare. Se non si rispettano questi tempi, se si è troppo lenti, semplicemente l'Europa non eroga le risorse che sono state riconosciute ad uno Stato, ad una nazione. Oltretutto il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che il 2021 sia stato l'anno della programmazione, il 2022 l'anno della pubblicazione della stragrande maggioranza dei bandi e della ripartizione delle risorse. C'è stata già qualche avvio dei cantieri nel 2022, ma soprattutto dal 2023 si aprono le carriere, i cantieri si dà avvio alle principali opere pubbliche. Ogni governo naturalmente ha avuto la sua gatta da pelare, non è stato facile programmare, anzi riprogrammare il PNRR in soli due mesi. Io ricordo che sono sei mesi che parlano sette, anche qualcosa in più se ci mettiamo alla campagna elettorale di rimodulazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi in due mesi abbiamo sostanzialmente riscritto laddove potevamo un PNRR ereditato dal conte 2, lo abbiamo presentato in Europa, ce lo siamo fatti approvare dall'Europa, l'abbiamo presentato in Parlamento e il Parlamento l'ha approvato. Questo in soli due mesi. In sei mesi noi sentiamo parlare di rimodulazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non sappiamo come verrà rimodulato e soprattutto quali sono le opere che non verranno realizzate. Non sappiamo per esempio se i cittadini campani vedranno costruire gli asili nido, non sappiamo se i cittadini di Napoli potranno godere della Napoli-Bari, non sappiamo se i cittadini di Reggio Calabria potranno soffrire dei fondi per potenziare i presidi sanitari. E questa secondo me è una mancanza di trasparenza, ma è anche una mancanza di consapevolezza dell'urgenza del piano. Due mesi, tre mesi, sei mesi in un arco temporale di cinque anni, che sono quelli di attuazione del PNRR, è come se fossero tre anni per i fondi strutturali europei che hanno una programmazione, come sappiamo, di sette anni, nove anni con la rendicontazione. Quindi vedo un po' il tentativo di buttare la palla in tribuna e di scaricare responsabilità sui governi precedenti, che è il tipico sport italiano che crea, tra l'altro lo vediamo anche in queste ore, con il basso tasso di partecipazione alle elezioni comunali, che crea tanta disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della politica. Certo, onorevole, solo di sfidare in qualche modo la sua eleganza politica, lei notoriamente è politicamente molto corretta, molto elegante. Però se il governo Meloni dice le cose che le ho detto prima, dov'è che si è inceppato il meccanismo? La butto lì in maniera anche un po' più brutale. È incapacità di questo governo oppure c'è qualche altra cosa che non si riesce a capire? Perché intanto i rallentamenti che si stanno avendo con questi sei, sette mesi, come dice lei, sul PNRR, poi incideranno soprattutto sul sud, poi ne parliamo, ma incideranno soprattutto sul regione d'Italia. La posta in gioco per il sud è altissima e se vuole dopo ne parliamo. Guardi, io credo che aver cambiato la governance in corso d'opera, per carità, è una scelta politica legittima, ma probabilmente, per non dire sicuramente, ha rallentato la macchina del PNRR. Cioè è come se noi guidassimo una macchina in corsa, decidiamo di fare benzina perché crediamo, riteniamo che la benzina non basti per arrivare a fine corsa e una volta che ci fermiamo all'area di servizio, anziché rifornire la macchina di benzina e ripartire, decidiamo di cambiare anche il motore. È chiaro che anziché stare fermi dieci minuti, siamo fermi forse qualche ora, per non dire un giorno intero. Probabilmente questo, il cambio della governance e poi anche la difficoltà a credere in un progetto che si è ereditato e nel quale non si è mai creduto. Anche noi abbiamo ereditato un progetto, però nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo fatto tutto il possibile per migliorarlo, perché questi fondi che ci arrivano dall'Europa, una parte a prestito, per carità, tassi agevolatissimi e una parte a fondo perduto, noi riteniamo rappresentino un'occasione senza precedenti per modernizzare il nostro paese. Ecco perché noi abbiamo lavorato di cacciavite ogni giorno, cioè ogni giorno, ogni ora, noi abbiamo lavorato per garantire la realizzazione e l'attuazione delle opere, per garantire che la progettualità fosse all'altezza delle sfide che ci richiedeva l'Europa. Io lo chiedo da cittadino, da cittadino elettore, ma se viene sempre puntualmente meno il principio della continuità amministrativa, perché poi di questo si tratta, poi il system cambia governo, cambia governo anche regionale, si ricomincia da capo, si perde tempo e inevitabilmente si dice è stato il governo precedente. Perché nelle riforme non si introduce per riforma, per legge, un meccanismo per cui si proibisce ai governi di interrompere la continuità amministrativa. Perché in una democrazia matura questa dovrebbe essere una prassi consolidata, cioè a me non è venuto in mente di cancellare le cose buone che ha fatto il mio predecessore, laddove c'era da migliorare le ho migliorate, ma riconoscendo anche i meriti di chi mi ha preceduto. Diciamo che anche qui ci vuole non soltanto una maturità delle classi dirigenti, ma anche uno stile nel ricevere un testimone e nel cercare di farlo fruttare al meglio, non nell'interesse della propria parte politica, ma nell'interesse collettivo e generale. Sono diversi modi di intendere la politica e di servire le istituzioni. C'è chi si serve delle istituzioni per accumulare o racimolare consenso, e chi le serve perché ritiene che quella sia la strada migliore per lasciare un segno, per lasciare una traccia. Vorrei provare educatamente a farla arrabbiare. Non so se lei ha notato che negli ultimi mesi, ma qua fra l'apposto in coincidenza con il cambio di governo, con la vittoria della destra, il gergo politico è un po' cambiato, è cambiato nei giornali, nelle tv, è cambiato anche nella vostra narrazione, vostra dico dei politici. Oggi non si parla più di centrodestra e centrosinistra, si parla di destra e di sinistra. Alla luce di questo gergo che è cambiato, la Presidente di Azione ritiene ancora che sia utile il terzo polo, che sia utile il centro. Il centro è scomparso, almeno nel gergo. Guardi, penso esattamente quello che pensavo quando ero in Forza Italia, una strada che poi ho abbandonato con una decisione sofferta, dolorosa, ma sono stata costretta a farlo, anche perché, come dicevo prima, ho ritenuto la decisione di sfiduciare Draghi, una decisione contro gli interessi della nazione, e diciamo che da un partito moderato, liberale, europeista, che ha sempre avuto come stella polare gli interessi dei cittadini, oggettivamente non me lo sarei mai aspettato ed era difficile condividere una scelta del genere. Credo che ci sia bisogno di una forza politica moderata, liberale, europeista, riformista, e non lo dico soltanto io, ma lo dicono anche i dati della partecipazione elettorale. Alle ultime elezioni politiche più di un terzo degli italiani non si è recato alle urne, cioè più di un terzo degli italiani non si è riconosciuto nel bipolarismo destra-sinistra. E la lista di azione Italia Viva è riuscita in soli due mesi, ma neanche due mesi di campagna elettorale, ad ottenere un risultato assolutamente lusinghiero, un 8%, un 7,8%, non credo sia mai accaduto prima che una lista appena nata abbia raggiunto un risultato così significativo nell'arco di poco tempo. Quindi quello spazio c'è, naturalmente si può fare di più, si può fare meglio, bisogna lasciarsi alle spalle, non uso giri di parole, il fallimento del progetto del Partito Unico che ha disorientato e anche deluso parte del nostro elettorato, bisogna far capire al nostro elettorato che è fallito il progetto del Partito Unico, peraltro insomma di partiti unici in Italia, di esperienze di partiti unici, non ce ne sono state particolarmente esaltanti, il popolo della libertà è imploso sotto il peso delle sue contraddizioni, il Partito Democratico continua a allogorarsi attraverso una guerra tra diverse correnti, ma a fallire è stato il progetto del Partito Unico, non l'impegno che noi perseguiamo con uguale tenace, uguale determinazione, di costruire quel grande partito dei liberali, dei moderati, dei riformisti, dei popolari italiani che vuole proporre un altro modo di fare politica, che nasce per sostituire alla propaganda il buonsenso, alla demagogia, alla responsabilità e alla propaganda la concretezza e la serietà. Voglio ricordare che lei è stata 18 mesi, sono 18 mesi? Sì. Penso di sì. Al governo? Sì, al governo, 18 mesi nel governo Draghi come ministro per il Sud. Sarà una mia sensazione, sarò un po' troppo sudista, meridionalista, scelga lei? E però la sensazione è che di Sud si stia parlando molto molto meno. Ecco, se mi consente le faccio un complimento, no? Lei riuscì a riportare la questione meridionale al centro dell'attenzione del governo e quindi dell'opinione pubblica. C'è stata una bella stagione in cui, ma proprio nella base, nella base istituzionale, si respirava questa area nuova, quest'area nuova. Che cosa è accaduto? Che cosa sta accadendo dal suo punto di vista? Cioè, siamo troppo legati con questo governo al nord, agli interessi del nord. Qualcosa sta accadendo? Perché di Sud non si sta più parlando? Ma intanto credo che ci sia stato un errore a monte, e cioè la decisione di accorpare tre deleghe importanti, pesanti, impegnative, in capo ad un unico ministro. Perché il ministro Fitto è il ministro per gli affari europei, per il piano nazionale di ripresa e resilienza e per il sud della coesione territoriale. Adesso, a meno che non sia Superman, e io, insomma, non credo che il ministro Fitto sia Superman, credo che sia proprio umanamente impossibile riuscire ad esercitare in maniera efficace ed efficiente tre deleghe così di peso tutte insieme. E io, insomma, noto come lei uno scivolamento verso il basso della delega per il sud, verso il basso nella lista delle priorità governative. Sono tanti dossier che non vengono curati con attenzione. Penso ai contratti istituzionali di sviluppo, attraverso i quali noi abbiamo letteralmente scaricato su determinati territori diverse centinaia di milioni di euro per finanziare opere pubbliche che quei territori aspettavano da tempo. Penso, per esempio, al CIS Brindisi Lecce, penso al CIS Calabria, penso al CIS Terra dei Fuochi, al CIS Vesuvio, Pompei, Napoli Est. I CIS sono contratti istituzionali di sviluppo attraverso cui il Governo centrale stipula con le regioni e le amministrazioni territoriali coinvolte dei contratti, attraverso i quali ci si impegna a realizzare determinate opere pubbliche in un periodo di tempo prestabilito. Peraltro sono contratti a cui noi abbiamo anche steso la disciplina dal punto di vista delle semplificazioni burocratiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi godono anche di semplificazioni notevoli e sono procedure che io ho attivato nell'arco di cinque mesi. Penso, per esempio, ai due contratti istituzionali di sviluppo che interessano le aree della Campania sono stati attivati uno a dicembre ed è stato siglato a giugno e l'altro comunque ad agosto ed è stato siglato a febbraio. Ma penso anche ai grandi dossier che riguardano Bagnoli. Non mi risulta sia mai stata convocata la cabina di regia per Bagnoli. Noi cambiamo la governance, affidiamo i poteri di commissario al sindaco di Napoli, lo dotammo finalmente di una struttura tecnica organizzativa, stanziamo dei fondi appositi, risolvemmo una serie di questioni a cominciare dall'allocazione di città della scienza, una scelta che i cittadini di Napoli e di Bagnoli aspettavano da tanto tempo. Penso anche alla questione delle baraccopoli di Messina, perché noi dimentichiamo un fatto assai increscioso, cioè mentre parliamo di transizione digitale, di transizione ecologica, ci sono e c'erano fino a due anni fa 8.000 cittadini italiani che vivevano in vere e proprie baracche risalenti addirittura ai primi anni del secolo scorso e nessuno mai si era occupato di dare una casa dignitosa a queste famiglie all'interno delle quali vivevano molti bambini. Uno dei miei primi atti da ministro, lo rivendico con orgoglio, è stato quello di portare all'approvazione del Consiglio dei Ministri un provvedimento per affidare al prefetto di Messina poteri speciali e per stanziare risorse, per avviare la demolizione di quelle baracche, per bonificare i territori e anche per trovare alloggi in cui trasferire queste persone. Tutta quest'opera è stata avviata, ma ad oggi manca un'interlocuzione in confronto con il Governo, per non parlare della strategia nazionale per le aree interne, che molto riguarda anche questo territorio. Noi avevamo impresso un'accelerazione notevole della strategia nazionale per le aree interne. Questi dossier ad oggi mi sembra che manchino di un'attenzione costante e poi, se vuole ne parliamo, la posta in gioco altissima è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io mi sono abbattuta moltissimo per ottenere che il 40% dei fondi del PNRR, circa 80 milioni di euro, venissero stanziati a favore del mezzogiorno e ottenuto che quel 40% venisse blindato da una norma di legge. Ad oggi noi sentiamo parlare di rimodulazione del PNRR, sappiamo che c'è stato un cambio di governance, ma nulla si dice sul rispetto del 40%, che è fondamentale per avviare quella riduzione dei divari da cui si parla da decenni. Certo. Ascoltandola, mi interrocavo, mi chiedevo e le chiedo, ma se c'è questo scivolamento che poi è tutto a danno del Sud, oggettivamente a danno del Sud, che cosa potrà mai accadere se dovesse passare, se dovesse essere attuata la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata? Guardi, io mi auguro che quell'autonomia... Tanto ne chieda anche la sua posizione qual è. Allora, io non sono contrario all'autonomia differenziata, a patto che l'autonomia differenziata sia rispettosa del dettato costituzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna non solo definire i livelli essenziali delle prestazioni, cioè gli standard minimi di servizi che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ma devono essere finanziati. Ricordo che c'è già una commissione tecnica, la commissione tecnica fa bisogni standard in seno al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa di definire i livelli essenziali delle prestazioni. Alla politica il compito di stanziare le risorse che servono ad attuare e realizzare l'EP. Quello che noi abbiamo fatto con il governo Draghi, perché anche qui, quando il Ministro Calderoli dice per la prima volta noi abbiamo istituito un comitato di saggi, oltre 50 saggi, io sono curiosa di sapere quando, dove, come si riuniranno questi 50 saggi, per la prima volta verranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni. O negli ultimi tre anni è stato in vacanza all'estero il Ministro Calderoli, oppure, mente, sapendo di mentire. Perché negli ultimi due anni il governo Draghi non solo ha definito i LEP, tre LEP che erano stati definiti dalla commissione tecnica fa bisogni standard, asili nido, trasporto scolastico degli studenti con disabilità e assistenti sociali, ma li ha finanziati. Noi abbiamo stanziato in legge di bilancio quasi 2 miliardi di euro, perché tutti i comuni italiani, dal nord al sud, dalle aree interne alle aree metropolitane, possano garantire l'attuazione, la realizzazione di questi servizi a tutti i cittadini italiani. Allora, autonomia sì, ma bisogna stanziare le risorse per attuare i LEP che mancano, e poi io farei un ragionamento sulle materie che sono devolvibili alle regioni, secondo quella riforma costituzionale approvata dal centro-sinistra nel 2001, contro cui il centro-destra si scagliò anche, insomma, abbastanza animatamente. I calcoli, mi perdoni se la interrompo, i calcoli non sono miei, sono di esperti, di economisti, esperti e persone serie. Per finanziare i LEP, per come oggi stanno le cose, e per tentare di colmare al minimo il divario nord-sud, ci vuole una somma che si aggira intorno ai 100 miliardi. Dove li prendiamo? Ecco, allora, dire però, come fa l'attuale ministro per il sud, che l'autonomia differenziata, così come scritta e immaginata dal ministro Calderoli, non sarà dannosa per il sud, mi permetta di dire che è un'affermazione rispetto alla quale io nutro molti dubbi per essere gentile. Materie devolvibili alle regioni. Ma noi pensiamo veramente che sia ragionevole affidare alle regioni materie come i rapporti con l'Unione Europea, come il commercio con l'estero, come l'energia, come le grandi reti di trasporto, come le infrastrutture, come l'istruzione? Allora, anche qui io credo che bisogna immaginare una revisione delle norme costituzionali, del dettato costituzionale che preveda che alcune materie, quelle che ho citato, non siano devolvibili alle regioni. Pensi, due mesi fa, tre mesi fa, il Presidente del Consiglio è andato in Algeria per siglare alcuni protocolli di intesa, memorandum of understanding e quant'altro trattati sull'energia. Se fosse stata in vigore l'autonomia di Calderoli, probabilmente sarebbe dovuto andare con dieci presidenti di regione, quelli che avrebbero chiesto l'autonomia, oppure avrebbe dovuto a Monte ottenere un accordo con i presidenti di regione che avevano chiesto l'autonomia sulle politiche energetiche. Cioè, diciamo che in vent'anni molte cose sono cambiate e mi sembra che questa sia anche la posizione di Confindustria. Cioè, facciamo un ragionamento sulle materie che sono devolvibili alle regioni. Io ho l'ultima domanda da farle, abbiamo purtroppo soltanto un minuto a disposizione. Già che sta in Irpinia non posso ignorare che c'è un problema enorme che si lega al PNRR e riguarda la piattaforma logistica in Valleufita vicino alla stazione Irpinia dell'alta capacità, alta velocità. Ora, glielo chiedo perché, se ricordo bene, insomma, se la memoria mi aiuta ancora, lei da ministro per il Sud si è molto battuta nel governo Draghi per questa piattaforma logistica. Intanto il progetto sta sfumando. Cioè, si è scoperto dopo un bel po' di tempo che RFI non ha mai fatto questo progetto. Allora, ricorda bene perché all'interno del PNRR che noi avevamo ricevuto in eredità dal governo Conte, non c'era una linea di finanziamento per le zone economiche speciali. Io ho inserito sia la riforma delle zone economiche speciali, oggi le zone economiche speciali sono aree dove si può investire godendo di agevolazioni fiscali e anche di procedure burocratiche semplificate, introducendo anche una linea di finanziamento di 630 milioni di euro per garantirne l'infrastrutturazione. All'interno di questi 630 milioni di euro più di 20 milioni erano dedicati, sono stati dedicati per la piattaforma logistica della Valle Ufita. Io dico intanto si va davanti con la progettazione di quello che c'è. Si metta un tavolo, intorno a un tavolo RFI, il commissario della ZES Campania, si capisca quali sono gli ostacoli e si proceda rapidamente a superare questi ostacoli. Cioè, ci sono due modi per affrontare i problemi. Il primo, lavorare ogni giorno con tutti gli interlocutori coinvolti per superare gli ostacoli, per abbattere le difficoltà e per risolvere i problemi. Il secondo, un atteggiamento più di rassegnazione, va bene, non si può fare, passiamo avanti, utilizziamo questi soldi. Peraltro non vorrei che questo governo avesse scelto questa seconda strada e sarebbe naturalmente un danno per il mezzogiorno. Dieci secondi per una domanda supplementare, siamo oltre la zona cesarine. Schlein, Meloni. Se proprio lei dovesse essere costretta ad andare a cena con l'una o l'altra, no? Ma per parlare di politica, per un governo insieme alla Schlein oppure alla Meloni, che cosa sceglierebbe? No, non mi dica niente. No, i governi non è che si fanno a cena, andrei volentieri a cena con l'uno o con l'altra, non per parlare di governo, ma perché sono comunque due personalità politiche, interessanti anche nella loro diversità. Poi è chiaro che io un governo futuro me lo immagino senza la Schlein e senza la Meloni. Grazie, grazie a Mara Garfagna per essere stata con noi, grazie per aver accettato i nostri inviti, grazie a voi e arrivederci con il prossimo speciale politico. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.